Una prova da Abba Pineto, dell'Abba Pineto. Il sestetto di Giacomo Tomasello lascia solo le briciole al Tuscania nella bella dei quarti di finale. E in tre set stacca il pass per la semifinale playoff, nella quale se la vedrà con la farmitalia a Catania, seconda classificata nel girone blu e che ai quarti ha eliminato in due partite Savigliano. L'Abba si conferma un rullo compressore tra le mura del Palazzo Santa Maria, due soli set concessi agli avversari al Savigliano in regular season e proprio al Tuscania in gara 1. Una serie questa che ha impegnato Pineto, come alcuni addetti e lavori avevano previsto, data la consistenza in battuta della squadra laziale, capace di strappare gara 2 al quinto set e trascinare al match decisivo un Abba, che però ha risposto presente davanti a un gran pubblico, mattatori della partita Matteo Paris e Jakob Link. L'alzatore ha dato sfoggio della sua classe e della sua grinta con alcuni colpi di notevole pregio. L'opposto svedese è stato immarcabile per muro e difesa del Tuscania, 23 punti col 67% di positività, 5 battute vincenti e 2 muri. Buono anche il supporto di Baldari, Milan e Basso, partita sempre in controllo per l'Abba con l'unico accenno positivo di Tuscania a metà del secondo set su alcuni turni in battuta di Sacripanti, la cui arma principale per il resto è stata arginata. Top scorer ospite è stato Corrado con 12 punti e 48% di positività, 25-19, 25-21, 25-14, questi i tre parziali. Ora lo sguardo è rivolto alla serie con Catania, capolista del girone blu per quasi tutta la stagione, prima di un calo e della rimonta e sorpasso della SIE Cortona. Pineto avrà il fattore campo dalla sua e dovrà cercare di sfruttarlo giocando al Palas Santa Maria come è fatto in tutta la stagione. Gara 1 domenica alle 18, gara 2 mercoledì a Catania, ore 20 e 30, eventuale bella domenica 7 maggio, di nuovo a Pineto, sempre alle 18.